Il tutor Roberto Rinaldini, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all'interno del programma condotto da Caterina Balivo su Rai 2, detto fatto, ha proposto i biscottini di Capodanno. Di seguito Ingredienti e procedimento. Ingredienti 420 g farina 00, 210 g burro, 180 g zucchero a velo, 60 g mandorle in polvere, 2 uova intere, un pizzico di sale, cannella in polvere, zenzero in polvere ghiaccia reale 200 g zucchero a velo, 10 g succo di limone, 1 albume, colorante alimentari. Procedimento in planetaria, con la foglia, lavoriamo il burro morbido insieme alle spezie e dalle uova a temperatura ambiente. Aggiungiamo anche lo zucchero a velo e la farina di mandorle e lavoriamo ancora punto a parte, setacciamo la farina. Aggiungiamo una parte della farina al composto. Dopo pochi istanti, aggiungiamo la farina rimasta. Lavoriamo pochi istanti ancora. Formiamo un panetto, lo avvolgiamo nella pellicola e lo facciamo riposare in frigorifero per 12 ore. Stendiamo la frolla ad un'altezza di 3 mm. Ritagliamo le forme desiderate, servendoci di modelli in cartoncino o di formine. Punto disponiamo su una teglia coperta di carta forno ed inforniamo a 180 grado per 20 minuti. Ghiaccia mescoliamo lo zucchero a velo con l'albume, senza montare eccessivamente. Aggiungiamo il succo di limone e trasferiamo il composto in una saca a poche. Decoriamo i biscotti ormai freddi con la ghiaccia. Punto le nostre cancellette.